Non è un festeggiare, è un ricordare, ma è importantissimo. Qualunque forma di memoria o di rafforzamento della memoria storica del paese è sempre da apprezzare. Secondo me è emozionante. 2 giugno. Sono orgoglioso di questa manifestazione. 2 giugno. Mi emoziona molto il tricolore. Sì, seguiremo la parada. Oggi riguarda. Penso che la seguiremo, la festa del 2 giugno, per spiegare ai miei alunni l'importanza di questo evento. 2 giugno. Solo niente. Le vicepresso. 2 giugno. Grazie a tutti.